ciao eccomi qui con il continuo e il nostro secondo l'aurora come avevo detto dovevamo terminare i nostri piettelini cerco sempre di farveli vedere che avevamo una rocai in questo modo però le qua parte che ce n'è una subito inserita qui 2 3 4 5 deli che poi ci sono per far vedere il petalo una due tre quattro cinque e sei rocai sui lati noi ci dobbiamo spostare ad uscire da una rocai in questo verso io rigiro il lavoro ma per un discorso di comodità mio nella lavorazione vedete che certi li ho già collegati per farvi vedere i passaggi diciamo più facilmente e magari avere meno pezzi da dover unire dopo ok e adesso una volta che usciamo da questa rocai prendiamo una 15 0 ci inseriamo nella nostra rocai nel senso contrario e io mi infilo anche in due delica segue il discorso di riprese che spero che si vedano bene in questo modo poi con calma mi sposto lavorando nel petalo entro in due rocai cioè in due delica nel senso contrario di come ero entrata comunque per fare in modo che il filo si vada a nascondere non mi mette a fuoco adesso poi provo a guardare per vedere l'illuminazione luce perché così e poi risalgo le due delica una rocai per fare in modo di ritrovarmi uscire dalla rocai ok prendo una mia rocai e mi rinserisco nello stesso identico modo per fare in modo di finire tutto il mio giro ok io adesso devo inserire la mia ultima rocai mi rinserisco nella rocai e con molta calma perché adesso per parte che mi stanno dando il filo devo scendere dal mio petalo e se non si fa attenzione in questo punto si potrebbero rompere delle perline per quello che dico piuttosto una perlina alla volta ok vedete che sì se lo mando fuori il nostro lavoro adesso risulta così molto incurvato verso il dietro per farvelo vedere meglio ecco molto incurvato verso il dietro ma non è un problema perché poi con la lavorazione che dobbiamo fare adesso questo verrà bello piatto ok adesso noi stiamo uscendo dal nostro petalo pian pianino dobbiamo spostarci sul lato davanti della nostra lavorazione entrando nella nostra incastonatura come avevo detto facendo molta molta attenzione anche se non abbiamo fatto nodi all'inizio se non stiamo molto attenti dove passiamo potremmo rompere le perline della incastonatura ok sono arrivata nella lavorazione davanti sto uscendo da questa delica vedete ok una volta usciti da quella rocai dobbiamo prendere cioè da quella delica dobbiamo prendere una rocai ci dobbiamo infilare poi dobbiamo infilare ancora un altro rocai e infilarci nella delica successiva però adesso dobbiamo infilare tutte le rocai nel giro come abbiamo fatto poi nella lavorazione dietro qui per poter fare i petali però adesso dobbiamo farlo con le rocai io ho terminato il mio giro con le rocai sto uscendo dalla prima rocai che abbiamo inserito a questo giro prendo un bicono da 4 una rocai le mando in fondo al mio filo vi faccio vedere che lo sto inserendo perché mi trovo in corrispondenza a questo foro che abbiamo qua dietro rientro solo nel bicono e nella rocai successiva mando bene in fondo il nostro filo qui messo in pigliato in questo modo qui dove dietro c'è il nostro petalo inserisco una sola rocai e rientro nella rocai successiva adesso rinfilo un bicono da 4 una rocai mando in fondo al filo e rientro nel bicono e nella rocai successiva e faccio così per tutto il giro poi per il discorso di renderli anche un pochino più stabili rifaccio tutto il mio giro passando con il filo una volta in modo da renderli leggermente più stabili io ho consolidato tutto il mio lavoro rendendoli un pochino più stabili sto uscendo dalla rocai che abbiamo inserito nel giro che abbiamo inserito i nostri biconi esco da questa rocai inserisco quattro rocai una due tre quattro mi rinserisco nella rocai in punta il nostro bicono così inserisco ancora una due tre rocai sto uscendo dalla perlina in quel verso rientro in questo non facendo impigliare il filo rientro in due rocai una adesso sarà facile che il filo ogni tanto si impiglia perché avendo tanti tante punte due tenendo il filo tirato ma non eccessivamente esco così da quella centrale che abbiamo appena inserito ci infiliamo nello stesso verso che usciamo da questa in questa dietro in modo da farli collegare rientriamo nella perlina così lo facciamo per un paio di volte in modo che venga più stabile possibile ok rientro nell'ultima delle tre dove non sono ancora passata e di nuovo in quella sopra al nostro bicono rinserisco quattro rocai una due tre e quattro e rivado nella rocai qui quella che è da sola in questo modo ok riprendo quattro rocai una due tre quattro mi rinserisco nella rocai sopra il bicono prendo tre rocai una due e una tre come prima sto uscendo da questa rocai sopra il bicono da quella parte mi rinserisco da questa tengo sempre il filo in tensione non eccessivamente rientro nelle due rocai e adesso fatto così per che non vedo molto con le il telefono davanti sto uscendo dalla rocai in questo verso rientro in quella della la parte di dietro nello stesso verso rientro cerco di sempre di far vedere ma tengo rientro in quella dietro ancora in quella davanti poi riscendo spero sempre che sia fuoco ma non vedo se lo so dire non vedo bene e poi quella sopra il bicono e arriva davanti a infilare le mie quattro per tutto il giro ok e poi in qualsiasi punto io voglia prima di scendere vado a lavorare il nostro gancetto se vogliamo farglielo per poterlo appendere ok io adesso vado avanti per tutto il giro e poi il mio ciondolo sarà finito ok io sono ormai alla mia fine del mio giro ho infilato le ultime mie quattro perline rientro dove è iniziato tutto il mio giro ok e vedete che da essere concavo come era prima è diventato piatto adesso se vogliamo possiamo tranquillamente ripassare nelle perline nelle quattro rocai nella perlina di punta al nostro rivoli c'è il nostro bicono e continuando a lavorare le nostre quattro perline in modo da rendere il lavoro come ho detto un po più stabile io lo faccio perché uso comunque un filo molto sottile proprio perché così mi permette di passare tante volte nelle perline essendo davvero molto molto sottile come filo e allora passo più volte nelle perline io uso anche un ago molto sottile ok vabbè adesso non ho finito il mio giro di consolidamento del lavoro ma è uguale così si può vedere lo stesso perché comunque il lavoro è terminato e solo manca solo il giro di consolidamento del lavoro come vi dicevo prima se volete fare il gancino per un annellino io adesso glielo vado a fare così ok esco stando attento che non mi si impiglia il filo infatti adesso mi si sta impigliando poi mi si rovina ok risalgo verso una delle punti dei puntini che abbiamo fatto seguendo le perline adesso passo su quella della lavorazione sul retro ok rientro facendo sempre attenzione di entrare nel verso corretto della perlina perché se no poi dopo non vedete che sono entrata nella rocaille in una delica nello stesso modo così blocco poi il mio filo risalgo sono entrata in due delica e ora essendo nelle due delica posso tranquillamente risalire le rocaille speravo di riuscire a rinfinarmi in più di una alla volta ma ok sono arrivata ormai in quella in punta faccio la mia isolina con una due tre quattro cinque sei sette e otto otto perline le mando giù rientro nella lavorazione e passo quattro cioè quattro cinque volte le volte che voglio passare per consolidare il mio lavoro e il ciondolo sarà effettivamente terminato basta montargli una catenina e sarà finito se vogliamo fare quello che ho fatto io nella collana che avete visto all'inizio dell'altro tutorial che poi della prima parte devo sempre spostarmi sulle mie punte e poi vado a collegare gli altri elementi se voglio collegare altri elementi nel per fare l'orecchino in castolo un rivoli del 10 faccio le punte nello stesso identico modo l'importante è che siano disperi per poter fare il lavoro e invece di inserire nove delica ne inserisco sette nell'altro tutorial sotto nell'info ho scritto tutto e qui lo dico così magari chi non ha letto sotto e ha magari guardato tutto il video riesce a fargli lo stesso ok la mia solina è terminata poi io brucerò tutti i fili di lavorazione adesso dovrei devo riscendere per andare a bloccare le perline come vedete che il lavoro è terminato questo è il ciondolo terminato ok devo solo andare a ritornare giù ma la lavorazione è uguale non cambia per quello che adesso non taglio il filo per cucirlo se poi volete anche non volete fare la solina potete tornare giù una volta che siete saliti tornati giù e vi andate infilare in queste perline potete fare tranquillamente anche un passante per poterlo applicare a una delle creazioni cioè magari mettendoci la collana dietro tranquillamente o un fularo o qualsiasi altra cosa ciao alla prossima ciao 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 ciao